In compagnia del Rettore Aurelio Tomasetti, oggi siamo qui all'Unisa per, in occasione del convegno su rischi, costi e sostenibilità nelle aziende sanitarie, a riprova anche della sinergia che lega l'Ateneo al Master Dauzan e al Cirpa. Sì, in realtà questo è un tema, quello della sicurezza negli ambienti di lavoro, nel mondo della sanità, è un tema estremamente importante perché spesso si parla dei costi della sicurezza ma invece dovrebbe parlarsi molto più dei costi della non sicurezza. In questo senso il nostro Ateneo ha sempre avuto una politica molto sostenuta dalle forze sociali che richiamano continuamente il governo dell'Ateneo a prestare attenzione rispetto agli interventi, gli investimenti in sicurezza che rendono i nostri ambienti di lavoro più efficienti, più moderni, più funzionali e più sicuri possibile, l'interesse del nostro personale e dei nostri studenti. Sulla sanità, Salerno è una forte tradizione anche grazie ai lavori portati avanti del tempo in chiave manageriale dalla collega Dinolfi e oggi sposata anche ovviamente in chiave clinica dalla nostra facoltà di medicina ebbene al punto che siamo stati individuati come i due soggetti insieme alla Federico II che in campagna cureranno i corsi per direttori generali. Io credo che in questo senso prestare, avere anche attraverso interlocuzioni con gli attori presenti sul territorio a partire dall'ordine dei medici e diventa importante per costruire quella rete che in qualche modo ti può far proporre come punto di riferimento a livello regionale per qualsiasi iniziative che riguardi il mondo della sanità. Siamo veramente onorati di presentare la dodicesima edizione del Master che quindi continua e va sempre meglio con sempre maggiore afflusso, con sempre maggiori richieste con la collaborazione di tante aziende che anche quest'anno finanzieranno le borse di studio sia per i dipendenti pubblici sia anche per non dipendenti pubblici. Abbiamo anche la scuola superiore quest'anno, abbiamo aziende private che ci finanziano quindi questo dimostra che c'è il sostegno del territorio, abbiamo l'Ateneo che è attento e ci sostiene abbiamo gli ordini dei medici che sono qui oggi, stiamo presentando i risultati di una ricerca sul rischio perché il risk management rivestirà sempre di più un ruolo importante nel programma formativo e abbiamo qui anche altre istituzioni come INA, il Campania che ci finanzia anche delle borse di studio per dei project work che si svolgeranno nell'ambito del Master e abbiamo anche qui tanti direttori generali di aziende sanitarie che sono venuti che ci manderanno delle persone da formare e la cosa che più ci fa piacere è anche avere qui tanti ex discenti questo dimostra che si è creata una rete che cresce sempre più e che va avanti e portando non solo cultura manageriale in sanità ma portando anche valori perché il nostro Master è anche molto centrato sui valori, presta molta attenzione all'orientamento al paziente e all'efficacia e qualità delle cure ma anche all'etica abbiamo anche uno spazio per queste tematiche